Good evening e buona passeggiata in mezzo alla natura da vivere nuovamente. Dove mi trovo? Mi trovo a Monza, al Parco Villareale di Monza. Tra poco andrò a insegnare come di consueto yoga e ho voluto fare una piccola passeggiata qui. Ve lo voglio condividere questa meraviglia. Ancora abbiamo uno scorcio di estate da vivere in essere bene, con un clima questa volta mite. E in merito a questo volevo parlare di bene essere, o meglio di bene. Ho preso una citazione molto interessante di Bartali, di Gino Bartali, che voglio condividere con voi. E gli disse in una citazione che il bene si fa ma non si dice e certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. È meraviglioso sapere che non è importante farsi vedere quando si fa del bene. Viene spontaneo, viene da una coscienza interiore. E noi tutti abbiamo la coscienza, dobbiamo solo imparare a tirarla fuori, a percepirla, a sentire che effettivamente noi non siamo soltanto mente, non siamo soltanto corpo, ma siamo anche cuore, anima, sentimento. E quando facciamo del bene in maniera incondizionata, come una madre o un padre fa per il proprio figlio, tutto veramente arriva a primiarci, come appunto una medaglia, che non si mette sulla giacca, ma è una conferma di quello che stiamo facendo bene come esseri umani. Una conferma, senza egoismo. Quindi mi raccomando, ancora una volta, vi ripeto, il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima e non alla giacca. Fatelo questa sera. Iniziamo a sentire che possiamo fare del bene in maniera incondizionata. Io vi saluto col cuore, ci vediamo alle prossime lezioni, ai prossimi discorsi o disgressioni. Un bacio. Namaskar.